La Pasqua è la dilatazione della primavera verso l'Eterno. Sono parole di Don Primo Mazzolari, parroco e profeta, parole che ci vengono in aiuto oggi, venerdì di quaresima, quando al silenzio delle nostre chiese, dovuto al coronavirus, si aggiunge il silenzio della liturgia. L'immagine della Pasqua primavera torna di frequente negli scritti, nelle parole di Don Primo Mazzolari, non un evento esterno, lontano da noi, ma il tornante stesso dell'intera vicenda umana. In questi giorni di necessaria quarantena aspettiamo con animo inquieto la primavera che ufficialmente arriverà domani, un po' come dopo il Calvario attendiamo, cerchiamo il sepolcro vuoto. Ebbene in questo periodo siamo chiusi in casa addirittura per uscire a prendere una boccata d'aria si fa a gara per andare a buttare la spazzatura. Siamo in casa ma teniamo gli orizzonti aperti. Mi permetto in questo senso un piccolo suggerimento per vivere questo periodo. Ogni giorno facciamo tre telefonate, magari collegamenti Skype oppure chiamate video Whatsapp. Cerchiamo i nonni, gli amici, le persone che sappiamo essere più fragili, magari sole in questo periodo. Sarà solo un piccolo gesto, un simbolo della primavera che attendiamo, magari anche un simbolo della rinascita alla quale già ci stiamo preparando. Teniamo il cuore sereno. Ciao a tutti.